C'è l'ombra del voto di scambio dietro l'arresto del sindaco e di tre assessori della giunta di Marina Gioiosa Ionica vicino al Reggio Calabria fermati all'alba nell'operazione contro la cosca di Mazzaperro. Per loro l'accusa è quella di associazione mafiosa. Rocco Femia, candidato in una lista civica, avrebbe chiesto aiuto ai vertici dell'organizzazione criminale durante la campagna elettorale. Diventato sindaco, secondo gli investigatori, ripaga chi lo ha sostenuto e la sua amministrazione affida una serie di appalti pubblici a personaggi appartenenti alla cosca. Uno dei tre assessori finiti in manette è Rocco Agostino, candidato al Consiglio Provinciale di Reggio Calabria per la lista Raffa Presidente, quella che sostiene il candidato del centrodestra Giuseppe Raffa. Una vera e propria discesa in politica delle cosche, così il procuratore di Reggio Calabria ha definito oggi lo scenario nel quale sono avvenute quelle elezioni amministrative nel 2008.